C'è un problema. Un problema grosso perché non riconosco nemmeno più io la squadra. Due gol con l'Inter, tre gol con la Lazio. Dimmi se si può continuare così. Allora, il calcio è semplice. Eravamo partiti bene i primi due mesi. Si aveva anche una bella media. A Monza neanche un tiro. A Monza partiamo per bene. Monza è andata mai solo in tutto la moto. Cioè, tu fai 0 tiro in volta e va bene. Tu devi fare 0-0. 0-0 è la media perfetta. Perché se tu fai 0 gol e ne subisci 0, abbiamo la migliore difesa. La migliore difesa tu vinci lo studiato in automatico. Ti danno il bonus. Anche se pareggi tutte le partite. Anche se pareggi tutte le partite. Queste ultime 6 partite abbiamo studiato 0 gol. Abbiamo fatto troppi gol. Per fortuna è arrivata la sosta mondiale. Perchè così la squadra avrà la possibilità di riordinare le idee. E ripartire a gennaio con la giusta carica. Come l'avamo ripartire a settembre. Questo è un po' l'obiettivo, no? Infatti si stavano già recuperando troppi giocatori. Adesso ho già detto a Folletti di romperne altri 4-5. Quindi partiamo. Dobbiamo essere prato. Anche la rosa. Anche la rosa deve essere corta. Anche la rosa deve essere corta. Anche la rosa deve essere corta. Vabbè. Tutto pronto. Senti. Abbiamo visto Juventus-Lazio. La partita che la Juventus è l'unica che ha dominato facilmente. È contro però. Questo mi spiace. Per Mr. Sarri. Abbiamo visto Juventus-Lazio una seconda col timeframe di a Bom-O. Grazie.